E benvenuti a avere questo nuovo episodio di Spider-Man. Miniatta, lasciate il like a video oscuri e via, il deposito sul mare. Grazie per la visione! Bene. Allora, distruggo come a The Rebugle i generatori che creano i simbionti. Bastazzi, vostra. Dai, fermo. Bene. I miei episodi non sono episodi se all'inizio non muoio subito. Mi sono fatto saltare. Ok, va. Devo evitare lo smonto con questi incavoli simbionti. Qua è uno. E' un po' invece. E' due. Ok, l'uso non è via, l'intestrano non l'uso. Ok, la linea tele di fuoco ottenuta. Vai, bruciate. Burn me down. Ok, anche se è andato. Però non capisco dove siano gli altri. Ah, forse è là. Infatti quasi cade. Eh no. Ah, è bello. Dani. E ci vediamo. Ah, a volte veramente il visuale della camera è un fastidio. Andiamo all'inizio. Vai, io. Ok, dai che qui ho finito ormai. Bene. Dei dati distrutti. Per me non sono più simbionti per adesso. Quanto sarà brutto fare questa parte poi alla fine. Non vedrete. Posso dire che stavo per dirlo io. Eccoci qui al laboratorio. Sapete raga io questa parte l'ho raggiunta per la prima volta quando ho messo il codice. La password non si sono mai arrivato direttamente dopo anni l'ho fatto. Sì vabbè non può mica passare attraverso così sai. Ma perché la raiantele non ha funzionato dai. Almeno ho le raiantele cariche. Meno male. Ehi. Quanto è per la vita? Ecco fatto. Subito. Ma il problema non è finito ancora. Che bello. No, 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 no. No, no, no. Dannazione. Ho detto che ho tutte queste morti dovevi preparare un bel video dove muoio! le mie serie o anche no, le mie serie per farci due risate allora prima devo andare lì poi devo andare qui e devo superare che c'è la faccia ok c'è la faccia sempre più lunghe da distante va bene ok se l'ho fatta arriva il luco sparato non ha paura così vabbè ragazzi questo episodio direi che può anche terminare qui e ci vediamo al prossimo ciao